Inuit in lega ambiente, insieme, per il monitoraggio della qualità dell'aria a tutela della biodiversità. La principale tower company italiana e l'associazione ambientalista più presente sul territorio nazionale hanno installato sensori IoT e gateway sulle torri Inuit presenti all'interno di quattro aree naturali dell'Appennino centrale, in una logica di Tower as a Service. Quattro aree siti scelti per un'iniziativa di straordinaria portata ambientale. Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Maiella, Riserva Naturale Zompolo Schioppo, Riserva Naturale Montegenzana Alto Gizio. Grazie ai sensori installati è possibile monitorare parametri ambientali quali anidride carbonica, diossido di azoto e polveri sottili. L'obiettivo è di conoscere la salute degli ecosistemi sempre più minacciati dal cambiamento climatico. Le infrastrutture di Inuit, condivise e digitali, al servizio del territorio e dell'ambiente.